Eccoci qua ragazzi allora con la seconda parte del secondo box di collezione rosso e blu Charizard X, questo è il box del ventesimo anniversario dell'uscita dei giochi per Game Boy Vi ricordo, allora io già l'ho aperto altrimenti facevamo notte qui perché abbiamo visto il primo come è andato E ci ha messo un bel po' Allora mettiamo questo qui intanto Ok, io vi ricordo di iscrivervi sempre al mio canale, di mettere un bel like se vi è piaciuto il guido Se vi sta per piacere o vi piacerà E se non vi piacerà mettere un dislike tranquilli ragazzi non me la prendo E di seguire la prima parte del primo box che ho aperto sempre sul mio canale Questo è il secondo che apro Ok, intanto eccolo qui il Charizard che abbiamo visto anche nella prima apertura del box Quindi non mi soffermerò più di tanto Togliamo i pacchetti Poi qui c'è il codice che regalerò se mi seguite sulla pagina lo metterò nel Sulla pagina e al primo che commenta darò il codice per messaggio privato Come ho fatto con l'altro codice Ecco qua Ok, mettiamo tutto a posto E questa invece è la carta jumbo Che abbiamo già analizzato prima È come la prima carta quindi Solo che cambia la dimensione essendo una carta jumbo e non standard E dietro al Charizard possiamo vedere sullo sfondo ci sono Flareon e Magmar Ok, direi che con questa Con queste due è tutto Adesso partiamo con i pacchetti Io direi di seguire lo stesso criterio di prima Quindi Pikachu, Venusaur, Blastoise e Charizard Scusate ragazzi ma oggi è un po' un casino qua a casa Assumato il telefono Ho dovuto mettere un po' in pausa il video Vabbè, prova da nulla Tempo che si risponde Ecco qua Ok Io non rovino mai i pacchetti Se non li ho Quindi Allora Il trick è questo qui Le ultime tre davanti Ok Snorunt O Snorant Clefable Poi Machok Che sta facendo una bella doccia Dopo una bella suonata in palestra Poi abbiamo Meo Tangela Paras Raiorn Benissimo che non c'era uscito Poi abbiamo Una carta strumento allenatore Tonico evolutivo Che è Holo reverse Vedete? Ok la mettiamo qui Poi abbiamo Floet Holo reverse Non vi so dire Perché le carte nuove non le colleziono E poi un pincer Raro Vediamo se mette a fuoco Intanto così vi faccio vedere bene la carta L'artwork Ok bene Ecco qua Facciamo sempre le divisioni Qui mi sembra che non ci sia uscita la carta energia Vabbè C'era la Holo quella là Ok Penso che sia La stessa cosa Vabbè Che se ne frega Intanto apriamo il secondo pacchetto Con l'artwork di Venusaur Ecco qua 1,2,3 Trick e ballacche Ok Fletchling Poi Shana Tonico evolutivo Non reverse Scusatemi ancora ragazzi Per l'interruzione Ma qualcuno oggi Mi vuole male Mi sta nominando Allora Passiamo avanti Poiché era finita la memoria del telefono Ho dovuto cancellare qualcosina Ok Ok Riprendiamoci Allora Paras Perfetto Poi Energia Intanto vi do una Bella carta Che sta per spuntare Energia a fuoco Poi abbiamo Geodude Se il telefono ci vuole fare la grazia Di mettere a fuoco Grazie Poi abbiamo Tangela Dodrio Reverso Mamma mia No 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 ragazzi Stupenda Questa è la carta Che volevo trovare Grandissimo Flareon X Con Jolteon E Flareon Eh Scusate Vaporeon Di fianco Bellissima ragazzi Bellissima questa X Mamma mia Questa è la più bella X Che Di 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 questa apertura ragazzi Grandissima Di questi due box Eh no Vabbè no Ragazzi no Questa apertura È Epica ragazzi Mega Venusaur X Uscito nel pacchetto Di Venusaur No ragazzi Mamma mia Venusaur Non vi dico le carte di prima Perché altrimenti Vi spoilerò Andatevi a vedere il video E Mettete un bel like ragazzi Ok ragazzi Guardate qua Queste due carte Fantastiche Ficose Mamma mia Bellissime Grandissima apertura Ragazzi Sto godendo Veramente Come un porco Fatevelo dire Perché St'apertura È veramente Epica Ragazzi Cioè Qualcosa Di inverosimile Ci sono ancora Altri due pacchetti Ovvero Di Blastoise Charizard Ragazzi Mamma mia Mamma mia Vediamo cosa ci aspetta In questo qui Di Blastoise Mamma mia Non vedo l'ora Non sto nella pelle Ragazzi Sto veramente Mamma mia Mamma mia Non mi aspettavo Un'apertura del genere Perché Allora Vedendo in rete I video Degli altri ragazzi Alcuni sono stati Veramente sculati Altri Come me Devo essere sincero E altri Veramente Sfigati Sfigatissimi Che non c'è Certo quasi nulla Beh A me mi ha detto Culo Stavolta Finora Speriamo continui così Con questi ultimi Due pacchetti Intanto vedo Già una ex Full art Dietro Mamma mia Ragazzi Mi sembra che sia una full art Ok Continuiamo con calma Calmiamoci Franky Stai calmo Altrimenti qui Penso che dovrebbero Accompagnarmi all'ospedale Per infarto Ragazzi Ok Basta con gli scherzi Espur Sono troppo esaltato Pokeball Persian Bella questa di Persian In penombra Energia Eletro Poi abbiamo Slowpoke Machop Paras Le solite carte Energia Eletro Reverse Mamma mia Bellissima Questa Ragazzi Ma com'è bello Questo pokemon Questo artwork Poi Stupendo Froslass Questi pokemon Ragazzi Vi ripeto Ho seguito i pokemon Fino alla seconda generazione Poi Queste carte Le ho dovete comprare Appunto perché Questi box Riportano Molti pokemon Nella prima generazione Appunto il pokemon Il pokemon Di questo box Di punta È proprio Charizard Appunto E poi vediamo Questa carta Che già vedo Che è figosa Ragazzi Pababam 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 Grandissimo Vaporeon Vaporeonex No ragazzi No ragazzi Cioè ragazzi St'apertura È qualcosa Di eccezionale Mamma mia E poi Cazzo È fortissimo Guardate 180 punti vita Scusate È giusto Perché sono troppo Esaltato E poi Burrasca Profondo Profonda 130 30 meno Mamma mia Ragazzi Che carte Che carte Che carte E ci aspetta Ancora un pacchetto Quindi Stiamo Calmi E godiamoci Queste aperture Ragazzi Mamma mia Io Veramente Non so cosa dire Ragazzi Ci sono uscite Le carte No ma Guardiamo ancora Un po' Queste due carte Ragazzi Guardate qua Questa È bellissima È l'artwork Però questa Di Vaporeon Ragazzi Mamma mia Cioè Non ho parole Perché veramente È fantastica Fantastica Meno male Che ci stanno uscendo Tutte carte diverse Queste qui Diciamo un po' Più speciali Quindi Le Arthur Con le Come si chiama Le X Eccetera Ragazzi Scusate Sono esaltato Quindi sbaglierò A parlare Ma chi cazzo Se ne frega Scusate Delle parole Intanto Qui vedo Un'altra Carta Allucinante Mamma mia Ragazzi Non me lo aspettavo Proprio Ok Charmander Poi abbiamo Addetta del centro Pokémon Andiamo con calma Tonico evolutivo Pony Tark Questo artwork Veramente L'odio È bruttissimo Scusate ma È la verità Poi abbiamo Magikarp Energia Questa energia Non so quale sia Forse Folletto Dei nuovi Pokémon Ok Molto carina Sembra un tribale Ok Passiamo avanti Doduo Ma No 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 Ragazzi Forse ho capito Qual è Cartel Rosso Reverso Benissimo Questa è una doppia Quindi va In vendita Ragazzi Quindi se siete Interessati Perché già mi è Uscita Prima Vediamo un po' Sì Eccola qua Identica E precisa Perfetto Quindi Una di queste carte In vendita Ragazzi Se siete Interessati La metto in vendita Sulla pagina Seguitemi Quindi state Bene attenti Altrimenti vi perdete Delle carte Fantastiche Se non mi seguite E Buon per voi Mi dispiace E infine Tauros E questo qui Mi sembra Sì L'artwork Quello lì Del set jungle Se non erro Delle prime edizioni Ok ragazzi Perfetto Questa apertura È stata Veramente Allucinante Una sola doppia X Tra l'altro Che magari Mi rifaccio un po' Con i soldini Vabbè Non so quanto valga Però recupero qualcosina Ok Adesso vi faccio vedere Tutte le carte Che sono uscite Di questa apertura Togliendo quelle di prima Perché altrimenti Vabbè Ma chi se ne frega Raga Guardatele Che Che ci importa Vediamo se ci sono tutte Ok Perfetto Sistemiamole per X Così Facciamo una cosa Buona Un attimo ragazzi State Attenti Ok Ok Voglio dividere tutte Le carte Per quelle lì Speciali E quindi Faremo una cosa Sistemata Ragazzi Mamma mia No ragazzi Ma voi vedetevi anche La prima apertura Del primo box Quindi La prima parte Perché io ne ho aperti due Questo è il secondo Quindi ragazzi Io vi consiglio di vedervi Anche quello lì Che ci sono uscite anche Tantissime altre carte Bellissime Ok Vediamo Sono messo tutto In ordine Sì Perfetto 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 Ecco qua Allora Faccio vedere Quei la più importanti Non faccio vedere tutte Perché altrimenti Finiamo domani Scusate Mi sono Dilungato troppo Però Queste carte Sono veramente Molto belle Vale la pena Guardare questo video Allora Cartel rosso Poi Energia elettro Dodrio Fro Fro Lassa Floet Tonico evolutivo Magikarp Lino Slurpuff Giraki Ghastly O Ghastly Come preferite voi Raichu Poi abbiamo Iniziano Le X Qui ragazzi E qui c'è Blastoise Che spacca tutto E tutti Mamma mia Fortissimo Poi Mega Gardevoir X Ragazzi Che fantastica Questa carta Piena di Di colori Anche se Bella scura Ma molto Molto Bella Poi Abbiamo Vaporeon X Grandissimo Flareon X Doppio E una La metterò In vendita E infine Mega Venusaur X Ok ragazzi Io Vi dico Che questo Per questo video È tutto Direi Anzi Che per questo video È tutto Io vi invito Sempre a mettere Un bel like Al video Se vi è piaciuto O un dislike Se non vi è piaciuto Di seguirmi Sul canale Di iscrivervi Appunto E di seguirmi Anche sulla pagina Perché Alcune cose Le vedrete solo lì Quindi Come ad esempio La carta che è in vendita Di Flareon X Eccola qui Che è doppia Quindi Vi avverto Che questa è in vendita Ragazzi Ok Io Vi rimando Sulla pagina Facebook E vi mando Un salutone Visto che siamo In periodo pasquale Vi mando anche I auguri Di una felice E buona Pasqua Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti